Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Bomba d'acqua a Fano, diverse le strade allagate in città Mezzetto di cocaina nel Borsello, arrestato un albanese alla stazione ferroviaria di Pesaro La droga era destinata alla Movida A Pesaro svolto in forma ridotta il 206esimo anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Nuova ordinanza confermate anche per questo weekend, mascherine obbligatorie nelle zone della Movida Scuole, asfalti e rotatorie, cantieri aperti, accoglie al metauro per riqualificare la città Ripartenza a rilento per il mondo della ristorazione, più presenze e coperti nell'ultima settimana Si punta ancora sul cibo da sport Buonasera cari spettatori Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Ebbene, questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, forse c'è stato il primo acquazzone stagionale E subito si sono verificate le solite situazioni per la città di Fano Vediamo Sono bastati pochi minuti di pioggia battente, un tipico rovescio stagionale Per far emergere ancora una volta gli attavici problemi in termini di deflusso di acqua piovana Di certe zone ormai arcinote di Fano Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco non viene segnalato alcun tipo di intervento Né su Pesaro e nemmeno dai distaccamenti, tra cui anche Fano Ma le immagini che sono girate via social e ci sono arrivate anche alla nostra pagina di reporter di strada Sono quelle che potremmo ripescare dalle passate stagioni Viale Piceno trasformato in un torrente d'acqua con le attività commerciali che frettolosamente corrono ai ripari Con un automatismo che scatta fulminio, ormai rodato in anni e anni di allagamenti Ed è l'emblema di questa condizione E anche questa volta la cosa si è ripetuta in tutta la sua consuetudine Anche via Felice Cavallotti, altro punto dolente, ha visto i rivoli d'acqua Che allagavano sia la sede stradale che il marciapiede Ecco qua, ha piovuto 5 minuti di pioggia abbondante E siamo a questo livello Eccoci, guardate un po', guardate un po' Ecco, bene bene Come sempre Come sempre Come sempre Ecco, siamo di nuovo allagati E le zone interne di Fano non si segnalano situazioni critiche Fatto salvo per la zona di Rosciano, nello svincolo per il Codma Dove la sede stradale è stata tutta invasa dall'acqua Ed ora la cronaca, un altro arresto per spaccio di droga La polizia ha fermato un albanese proveniente dalla Romagna con mezzetto di cocaina destinata alla movida serale Un albanese richiedente asilo politico è stato arrestato dalla squadra mobile di Pesaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il ragazzo, un nulla facente, era stato notato dalla polizia mentre scendeva da un treno proveniente dalla vicina Romagna Infatti uno degli agenti lo aveva riconosciuto come quello già identificato nell'abitazione di un altro connazionale tratto in arresto per reati connessi al traffico di droga L'albanese inoltre era in evidente stato di agitazione e non aveva fornito alla polizia una valida giustificazione sulla sua presenza a Pesaro Dopo una perquisizione le forze dell'ordine hanno rinvenuto sul fondo del borsello portato a tracolla dal sospettato un involucro in cellofane pellicola d'alluminio contenente sassi di cocaina del peso superiore al mezzo etto La droga che è stata sequestrata avrebbe permesso, una volta tagliata, di confezionare un centinaio di dosi che vendute a 80 euro l'una avrebbero consentito un guadagno di circa 8.000 euro Secondo gli inquirenti la sostanza stupefacente sarebbe stata destinata alla movida pesarese Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto emettendo nei confronti del ventenne la misura cautelare della custodia in carcere L'operazione segue quella che ha già portato all'arresto di un pesarese con oltre 20 grammi di eroina anche lui proveniente da Rimini e quella relativa all'arresto di un giovane italiano residente a Monbaroccio trovato in possesso di hashish, cocaina, metanfetamine e oppio In quest'ultimo caso tra i clienti c'era anche un minorenne E oggi l'Arma dei Carabinieri festeggia il 206esimo anniversario di Fondazione Le celebrazioni si sono svolte a Pesaro in forma ridotta e per l'occasione sono stati resi noti i dati delle varie attività di contrasto alla criminalità Vediamo il servizio di Francesco Salvago Oggi 5 giugno ricorre il 206esimo anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri che per tradizione viene celebrato nello stesso giorno in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia d'oro al valore militare per l'eroica partecipazione dei carabinieri al primo conflitto mondiale Quest'anno nel rispetto delle misure connesse con l'emergenza epidemiologica in tutta Italia le celebrazioni si sono svolte in forma ridotta A Pesaro alla presenza del prefetto Vittorio Lapolla il colonnello Luciano Ricciardi, comandante provinciale dei carabinieri hanno deposto una corona d'oro sulla lapida in memoria del carabiniere robusto Antonelli medaglia d'argento al valore militare caduto durante il primo conflitto mondiale a Gorizia per mano nemica La commemorazione oltre che per ricordare i valori fondanti dell'istituzione è da sempre il momento per riconoscere il giusto merito agli uomini e alle donne in divisa per la detizione al sacrificio con cui hanno compiuto il proprio servizio svolgendo su tutto il territorio provinciale un'azione di prevenzione e contrasto delle varie forme di criminalità per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e di tranquillità Dall'esame dei dati statistici riferiti al periodo 1 maggio 2019-30 aprile 2020 risulta che i carabinieri del comando provinciale hanno proceduto per 6.627 reati dei quali sono stati individuati gli autori in 1.516 casi traendone 226 in arresto e denunciando in stato di libertà altri 2.186 sul fronte dei reati predatori quali furti e rapine i dati riportano 2.739 i furti oggetto di indagini 230 dei quali scoperti con l'arresto di 68 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 223 all'autorità giudiziaria Durante il periodo del lockdown invece si sono verificati soltanto due furti in abitazione Le attività svolte dei carabinieri forestali della provincia di Pesaro Urbino in ambito di utilizzo del territorio per attività produttive, per quelle non produttive illeciti contro il patrimonio e contro l'ambiente, compresi gli incendi sono stati 23.915 controlli di questi contestati 591 violazioni e 63 reati Inoltre a tutela della fauna sono stati svolti controlli sul maltrattamento degli animali e numerose verifiche sull'attività venatoria in relazione alla percezione di un'illegalità diffusa mentre relativamente alla tutela della flora sono stati svolti 3.663 controlli con l'accertamento di 74 illeciti amministrativi Ed ora parliamo della Movida e del coronavirus Il sindaco Massimo Seri ha disposto all'obbligo dell'uso della mascherina copertura sia naso e bocca dalle 18 alle ore 6 del 5 giugno fino all'8 giugno prossimo nelle aree pubbliche vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e attrezzate La zona è compresa tra la biglietteria e la linea ferroviaria e centro storico L'obbligo non si applica nei soggetti di età inferiore ai 6 anni disponibilità non compatibile con l'uso continuativo delle mascherine e attività sportiva o motoria diversa dalla passeggiata comune E quello che vale per Fano vale anche per Pesero perché in accordo col prefetto è stata rinnovata anche per questo weekend la ordinanza relativa all'obbligo di mascherina nelle aree della Movida da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno dopo le ore 18 Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci la misura varrà per il lato nord di Viale Trieste da Piazzale della Libertà al Porto Baia Flaminia, Campo di Marte e Piazza Europa e Sottomonte lungo la Ciclabile oltre al Largo Alto Moro Via Cavour e Via Cecchi Il tema delle mascherine il loro uso è sicuramente un argomento ancora caldo ma lo è ancora di più il loro smaltimento ovvero sia come disfarsene ebbene ci sono delle norme comportamentali ben precise che però spesso da alcuni non vengono osservate guardiamo i servizi Le trovi ovunque oltre che nelle farmacie o dai tabaccai loro collocazione naturale sul ciglio della strada in mezzo ai parchi o sui marciapiedi sono le mascherine monouso dall'inconfondibile colore azzurro basta fare un giro per Fano occhi a terra per scorgerle senza neanche sforzarsi di andare in chissà quale angolo sperduto e nascosto della città sono lì in ogni zona o quartiere da Via Pertini a Via Canale Albani vicino la scuola Nuti a ridosso di Corso Matteotti o lungo le Mura Romane in Piazzale Italia lì poi il suo educato proprietario l'ha buttata a terra a meno di un metro dal cestino dei rifiuti a grande sfregio di tutti sono lasciate lì buttate semplicemente a terra dopo aver fatto il loro compito in un supermercato o in un posto affollato oppure al termine di una passeggiata in zone periferiche testimonianza indelebile di incivile senso ecologista di chi fino a pochi minuti fa l'ha portata in viso per proteggersi lui dal virus mentre l'ambiente e la comunità e la città intera non riescono invece a difendersi dall'ignoranza di chi le ha calzate pochi attimi prima troppo fastidioso portarsi dietro un sacchetto di plastica e metterla al suo interno e buttarla nell'idinferenziata una volta tornati a casa in un sacchetto di plastica resistente o in un paio di sacchetti sovrapposti per evitare che si disperdano poi nell'ambiente anche l'associazione Puliamo Fano ha raccolto diverse testimonianze a riguardo con guanti monouso che danzano nell'aria in una ventosa serata e poi raccolte dai volontari uno per uno le associazioni ambientaliste stanno lanciando a questo riguardo un vero allarme con l'inizio della fase 2 la quantità di questi rifiuti sia destinata ad aumentare causando un impatto ambientale terribile oltre che un danno sanitario sì perché potenzialmente potrebbero essere contaminate e quindi veicolare il virus che con tanta fatica e sacrificio stiamo sconfingendo quello che non riusciamo a sconfingere invece è l'ignoranza e la maleducazione di certe persone e ora spostiamoci nel comune di Colli al Metauro perché sono attivi diversi cantieri per riqualificare molte zone della città vediamo Cantieri aperti accoglie al Metauro dopo l'emergenza sanitaria sono ripartiti lavori pubblici dalle scuole agli asfalti dalla rotatoria all'uscita della superstrada di Calcinelli ai cimiteri di Serrungarina e di Monte Maggiore al Metauro credo che questo sia uno dei più interessanti e forse anche dei più attesi in questo territorio questa rotatoria qui la si attende da tanto tempo è un incrocio effettivamente pericoloso nell'uscita della superstrada in questo momento la situazione è questa qui c'è un cantiere in atto che è quello che ha istituito Marche Multiservizi perché prima di realizzare la rotatoria abbiamo voluto risanare tutte le reti i sottoservitti fogne, acquedotti eccetera la detta sta lavorando di notte proprio perché di giorno non vuole occupare gli spazi stradali nell'incrocio sta portando avanti molto bene lo suo lavoro e credo che entro una settimana più o meno lo termina ho sentito stamattina la detta che è un'altra che deve realizzare la rotatoria una detta di potenza picena e loro mi hanno detto che come da accordi si insedieranno a fine giugno per proseguire il lavoro e terminare il lavoro della rotatoria quei 15 giorni tra i sottoservizi e l'inizio della rotatoria sono proprio appositi per far assestare il terreno che hanno mosso per fare le escavazioni che se poi ci si andasse subito sopra a fare altre opere si rischia di non fare un buon lavoro quindi il cantiere si insedierà a fine giugno buone notizie arrivano anche per le asfaltature perché mentre si stanno completando alcuni lavori in due zone della città il comune sta programmando quelli della stagione autunnale le asfaltature stiamo concludendo forse hanno già concluso in queste ore tutta l'asfaltatura di via Laghi la zona industriale Laghi poi proseguiranno via Belvedere con i calcinelli che era compresi in quello appalto poi quell'appalto è terminato noi abbiamo stanziato altri 450 mila euro che consolideremo con l'approvazione del bilancio consuntivo il 15 di giugno tra dieci giorni in consiglio comunale e quindi lo finanzieremo e saranno altre 450 mila euro di asfaltature che si riverseranno un po' su tutto il territorio in varie zone là dove ce n'è più bisogno stiamo cercando di recuperare insomma molti anni dove i comuni non hanno potuto portare avanti queste cose perché non avevano di fatto le risorse finanziarie in passato dopo la pausa forzata a causa del covid sono ripartiti anche i lavori alla scuola Dezzi di Saltara è chiaro che lì si pensava ad una riattivazione della scuola già da settembre già sarebbe stato difficile probabilmente ma dopo lo stop sicuramente i lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi fino a conclusione comunque sono già attivi mentre invece è interessante la prossima settimana si insedierà il cantiere entro la prossima settimana si insedierà il cantiere a Montemaggiore della scuola Ciavarini lì ci sarà il consolidamento di questa scuola elementare che aveva bisogno da tempo di una ristrutturazione ai fini della sicurezza dell'antisesmicità della struttura e quindi sarà messa in sicurezza per la riapertura delle scuole perché l'ha detta comunque lavorare anche nel periodo di estiva senza fare ferie bene ed è stato firmato un protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro su appalti e concessioni di lavori pubblici nella provincia di Pesero e Orbino le parti firmatarie includono i comuni di Pesero Fano la provincia le associazioni di categoria i sindacati dei lavoratori Ispettorato IMS INAIL si tratta di uno strumento di verifica in grado di intercettare operatori che non risultano in regola dal punto di vista dei contratti di lavoro e consente di assicurare le regolarità dell'esecuzione dei contratti pubblici e di libera concorrenza tra le imprese il protocollo rileva il prefetto assumerà rilievo anche in chiave di prevenzione antimafia facendo emergere possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico provinciale Bene, proprio a riguardo di economia soprattutto quella legata ai flussi turistici ma sicuramente se c'è tra queste una categoria che ha subito gravi ripercussioni dal lockdown è proprio quella della ristorazione ora guardiamo i dati dell'ultima settimana le presenze i coperti e su che cosa si punta nel servizio di Simona Zonghetti È stato un processo differente e a relento per le varie città d'Italia ma alcuni ristoratori iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel dopo mesi di chiusura forzata incassi mancati e un grande lavoro di adattamento alle norme anti-covid piano piano anche il mondo della ristorazione si sta riprendendo Non possiamo lamentarci dai sta andando abbastanza bene e abbiamo cominciato con gli asporti che funzionano e piano piano adesso diciamo che da quando ci hanno permesso di riaprire al pubblico farlo venire a mangiare in due settimane già si vede la differenza piano piano stanno tornando stanno prendendo fiducia su quello che è il locale e la sua sicurezza e quindi sta andando e cerchiamo di prendere fiducia piano piano con il cliente Gli imprenditori hanno dovuto fare conti con le distanze guanti e mascherine e sanificazione ma anche con le tasse da pagare e la riduzione di tavoli in questo ristorante di Colli al Metauro rispetto alla capienza del periodo pre-covid oggi è disponibile soltanto il 30-40% dei posti a sedere fortunatamente non abbiamo avuto problemi manteniamo le distanze di sicurezza fra i tavoli abbiamo disposto disinfettanti e gel un po' in tutto il locale quindi non solo l'ingresso abbiamo un ingresso e un'uscita distinti menu usegetta e anche il menu digitale quindi la possibilità di avere il menu tramite il QR code su Facebook e un esterno anche quindi non abbiamo soltanto un ambiente interno ma anche un ambiente esterno e quindi sì ci siamo adattati bene nonostante le grandi difficoltà sia per i ristoratori che per i clienti vista la grave crisi economica si cerca di essere ottimisti e come racconta Benedetta si continua a puntare molto anche sulla vendita di cibo da sporto un po' tutti i giorni di apertura nel fine settimana si è un pochettino più concentrato ma riusciamo bene i nostri clienti arrivano pagano aspettano fuori e noi consegniamo a loro le pizze quindi non ci sono assembramenti interni quindi come diceva manca soltanto ancora un po' più di fiducia un pochettino che piano piano però abbiamo visto che ce la stiamo acquistando sì ed ora una notizia di cronaca a Pesaro dopo l'atto vandalico dello scorso 2 giugno domenica 7 alle ore 10 sarà deposta una nuova corona in memoria dei caduti al monumento della resistenza l'iniziativa è stata voluta dai presidenti di quartiere a seguito di un atto vandalico che ha distrutto la corona dall'oro posta al monumento in occasione del 25 aprile scorso come presidenti dei quartieri della città spiega Luca Storoni ci ha ferito vedere che in un momento difficile e doloroso come quello che stiamo affrontando a causa del covid-19 ci sia chi all'unità e alla voglia di ricostruire insieme contrappone la stupidità e l'ignoranza distruggendo e umiliando i simboli di una comunità alla deposizione sarà presente il sindaco Matteo Ricci insieme alle autorità le associazioni che prendono parte alla cerimonia del 25 aprile e presenti anche i presidenti di quartiere per precauzioni e per evitare assembramenti i cittadini sono invitati a seguire l'evento nelle pagine facebook dei quartieri bene continuano ad arrivarci in questi giorni continue segnalazioni sullo stato di degrado del circuito ciclistico Marconi questa sera vi mostriamo un video che denuncia la mancanza di cura del verde pubblico guardiamo insieme siamo al circuito Marconi allora vediamo come è stata tagliata l'erba perché si dice che l'erba ricresce qui non ricresce l'erba non è stata tagliata è stata tagliata malissima praticamente fra poco invade di nuovo la pista d'atletica questi sono dei lavori fatti male nessuno controlla e fai la pista tutto al lato mare è tutta così sembra è inconcepibile che si possano fare dei lavori in questo modo non c'entra quello che ha detto la ragazza l'assessore che l'erba ricresce non c'entra questa non è stata tagliata questa è gialla è gialla arriva su alta anche due metri quindi non è stata tagliata qui è stato chiuso 15 giorni ma chi ha controllato i lavori a chi spetta spetta al comune all'asset è tutto così ma chi fa i lavori ma chi li controlla ma bene siamo arrivati in fondo a questa edizione di Occhio alla Notizia vi ricordo come ogni lunedì lunedì prossimo ci sarà dopo il telegiornale primo cittadino ospite di Simona Zonghetti qui in studio sarà il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi come sempre avete i re nostri ricapiti telefonici per rivolgere le domande al primo cittadino numero fisso 0721 861433 oppure potete utilizzare anche il numero di cellulare 338 49 68 250 per effettuare quesiti e domande anche tramite Whatsapp bene grazie questo è tutto per questa sera arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti Autore dei sorrisi